Noi volevamo essere al passo con i tempi, visto che il tema del metaverso ha avuto un'accelerazione, soprattutto ovviamente nel mondo giovanile. C'è il tema del cyberbullismo, che è molto sentito anche dopo la pandemia, purtroppo i numeri sono davvero preoccupanti, e volevamo costruire il nostro metaverso. All'interno di questo metaverso parte il primo progetto con l'Ordine dei Psicologi di Torino, per cercare di utilizzare questa nuova tecnologia, ma da qui poi implementare tanti servizi per la pubblica amministrazione, aspettando che le tecnologie magari evolvano, come è già successo nel passato, ci permettono di rendere molto più accessibile e anche molto più sicuro e facile le persone che in questo momento hanno difficoltà invece ad avere un approccio col mondo digitale. Quindi stiamo veramente costruendo il futuro della pubblica amministrazione all'interno del metaverso, quindi sono orgoglioso che parta da Torino e dalla Regione Piemonte. Adesso stiamo pensando di fare un Open Day per far provare il nostro primo metaverso che rispecchia un po' il nuovo grattacielo che andiamo a inaugurare a breve, e all'interno del punto di quest'area qua, magari conoscendo le cose si ha anche meno paura, visto che i dati dicono che oggi pensano che sia un mondo metaverso, un po' una zona franca. Non lo è, la pubblica amministrazione può essere e deve essere garante per garantire appunto a tutti l'accessibilità e la sicurezza in un luogo nuovo con tanta opportunità.